bonjour a tout le monde e mi fermo qui perché sono le uniche parole che conosco in francese e iniziamo con le nostre energie di oggi che è meglio che è meglio perché io leggo meglio i tarocchi che il francese e parlo meglio i tarocchi che il francese quindi andiamo a vedere le energie generali cioè le energie che potrete canalizzare in qualsiasi ambito della vostra vita qualcuno di voi quindi si rivedrà in queste energie relativamente al lavoro oppure alla famiglia o agli amici o a qualche progetto che avete in mente o non lo so qualsiasi cosa poi semmai se ne avrete voglia ce lo racconterete ma cominciamo prendiamo subito le tre carte dei nostri tarocchi universali quindi queste così una due bene 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 mi piacciono piaceranno anche a voi dunque iniziamo con il cos'è l'otto di bastoni il sole e il re di spade ma prendiamo anche il tarocco indovino numero uno il tarocco indovino numero due ah ne sono uscite due le teniamo ok e il tarocco indovino numero e scusatemi è l'oracolo della luna qui abbiamo ma era già uscita ultimamente boh non so sembra che escano le stesse carte ultimamente qui abbiamo l'ambizione e vuol dire che è un'energia un'energia ridondante cioè vuol dire che è una roba che in questi giorni ci si sta riproponendo più volte proprio perché vogliamo raggiungere qualcosa siamo ambiziosi ed è bello nella vita essere ambiziosi purché ci si sappia anche accontentare ora voi direte come si può essere ambiziosi ma accontentarsi non sono due cose in antitesi che si contrappongono l'una con l'altra no perché essere ambiziosi è fondamentale per raggiungere gli obiettivi è fondamentale per migliorarsi e in effetti non ci sono limiti alle possibilità che ciascuno di noi può realizzare e manifestare nella sua vita non ci sono limiti ma allo stesso tempo mentre lo facciamo accontentarsi nel senso di essere già felici di quello che abbiamo è fondamentale perché se non lo facciamo quello che creiamo a livello energetico è un senso di assenza mancanza quello che invece ci serve è un senso di pienezza come se già avessimo raggiunto l'obiettivo o come se fossimo già nella strada che ci porta verso l'obiettivo quindi dobbiamo allo stesso tempo mirare in alto ma essere soddisfatti di ciò che abbiamo le altre due carte sono la situazione stabile e concreta l'accomodamento in famiglia e il precipizio interessanti very very interesting non so come dirlo in francese ma in inglese mi viene più semplice e allora dunque l'accomodamento in famiglia che poi è un bellissimo 10 di denari parla ovviamente di quello che abbiamo e parla di quello su cui dobbiamo puntare l'attenzione per sentire quel senso di pienezza e di abbondanza che vi accennavo prima la situazione stabile e concreta esattamente infatti ciò che noi creeremo se riusciamo a sentire già questo benessere e se noi riusciamo a sentire già questa pienezza che poi può essere una pienezza emotiva o può essere una pienezza materiale non importa ciascuno di noi ovviamente i suoi desideri e i suoi obiettivi e ciascuno di noi sta lavorando per raggiungerli quello che conta è che in ogni caso per ottenere ciò che vogliamo dobbiamo sentirci come se già lo avessimo questa è una regola fondamentale tra l'altro anche la carta del precipizio se non ricordo male era già uscita negli ultimi oracoli perché sembra che siamo proprio sull'orlo di un precipizio ma non in negativo è quel è quel precipizio fare bungee jumping quando facciamo bungee jumping noi sappiamo che siamo protetti e che abbiamo la corda l'elastico che ci tirerà su e che ci salverà però vogliamo provare il brivido della caduta ecco in questo caso non abbiamo tutta questa voglia di provare il brivido della caduta diciamocelo però sappiamo di doverlo provare questo brivido perché bisogna correre dei rischi qualunque cosa voi vogliate ottenere ci sono sempre dei rischi da correre io non dimenticherò mai quando ho aperto il mio youtube e per me è stato un precipizio infinito perché avevo paura perché a quell'epoca non esistevano tanti canali di tarocchi come adesso e non solo ma all'epoca la cartomanzia era proprio vista come una cosa bruttissima ora sto dicendo all'epoca come se parlassi di 50 anni fa ma sì vi garantisco che in 5 6 anni le cose sono cambiate davvero tanto in questo settore infinitamente quindi per me è stato un po lanciarmi da un precipizio ma sono felice di averlo fatto perché mi ha portata qui perché mi fa fare un lavoro che amo perché mi fa stare a contatto con persone fantastiche mi fa conoscere sempre persone nuove mi fa aiutare la gente lì dove davvero ne ha bisogno e non come facevo prima quando facevo la biologa in cui sì avevo sempre un ruolo tra virgolette di aiuto ma era completamente diverso ecco ora io credo che dobbiamo veramente un po lanciarci dobbiamo un po rischiare correre dei rischi lo dicono tutti gli investitori ora io non so se voi avete mai investito io ho investito 200 euro una volta ho investito 200 euro perché stavo studiando trading stavo studiando investimenti in borsa cose così e allora ho detto prendiamo questi 200 euro vediamo che succede e quello che dicevano tutti quelli che io seguivo tutti i docenti che io seguivo era proprio questo bisogna correre il rischio se noi non corriamo un rischio non potremo mai ottenere dei risultati io non so in quale settore della vostra vita questa cosa si sta verificando o che tipo di rischi voi dovete correre però vi dico che in effetti la corda l'avete se ci pensate il paracadute la corda l'elastico l'avete non è poi così grave non è poi così pericoloso il rischio che state correndo quindi fatelo fatelo e vedrete che la vostra ambizione se vi muovete bene vi porterà davvero lontano inoltre con queste carte che sono appunto lotto di bastoni il sole e il re di spade non siamo mica degli scemi cioè è vero che decidiamo anche di fare delle cose rapidamente magari è anche vero che in questo momento abbiamo tante cose da fare e dobbiamo occuparci di tante cose contemporaneamente ma ci fa anche piacere farlo è bello quando è così e con il re di spade mica lo facciamo come dei deficienti ma stiamo molto attenti a quello che stiamo facendo siamo usiamo la nostra intelligenza usiamo le nostre capacità intellettive più elevate riflettiamo prima di agire pianifichiamo e in questo modo con un pizzico di rischio e con una buona pianificazione ragazzi il successo è quasi assicurato io direi è quello che manca per assicurare il successo è un'energia positiva ricordate la vostra frequenza e la vostra vibrazione che in queste cose contano sempre tantissimo ora andiamo alla parte tanto attesa da tutti voi andiamo al sacro maschile andiamo al sacro femminile che per qualcuno significa cosa amore sì per qualcuno significherà vita relazionale sentimentale e romantica ma per qualcun altro invece significherà semplicemente vediamo come stiamo interagendo con quella specifica persona che per qualche motivo svolge un ruolo in questo momento della nostra vita ovviamente non vuol dire uomo non vuol dire donna ma sono solamente le energie che ciascuno di noi indipendentemente del sesso dal sesso può canalizzare con tre carte abbiamo il nostro sacro maschile ma voglio anche prendere una carta del nostro tarocco oh benissimo quindi qui abbiamo un maschile che sceglie di lanciarsi abbiamo due arcani maggiori e un arcano minore bello tosto bello potente e importante abbiamo il matto l'otto di il nove di denari il carro e infine qui è uscito che alcuni ostacoli verranno appianati forse sì il maschile qui deve correre qualche rischio deve fare un po il matto un po il folle però non è non fa una brutta fine anzi fa una bella fine perché perché avendo già la sua cintura di sicurezza o il suo elastico che lo rende un nove di denari e cioè lo rende una persona che come va va starà bene lo stesso riesce a lanciarsi riesce a fare la sua mossa riesce ad andare verso l'altra persona riesce a fare dei passi in avanti e probabilmente riesce anche a risolvere dei piccoli problemini che si erano creati fra il maschile e femminile quindi un atto di coraggio o di incoscienza ma fatto bene fatto in tutta sicurezza porterà il maschile a risolvere delle cose che fino ad oggi non erano state risolte e adesso invece vediamo quali sono le tre carte per il femminile mentre invece vedremo solo nel privato quali sono le vostre situazioni specifiche se volete una sessione privata come sempre ragazzi io vi invito ad andare sul sito internet e prenotare direttamente da lì potete anche mandare un email potete mandare un whatsapp io i miei collaboratori vi risponderemo in questo preciso momento in realtà sto rispondendo io alle email e ai whatsapp che arrivano negli indirizzi email del box in descrizione mentre invece risponde il mio collaboratore all'indirizzo email che trovate sul sito internet relativo alla parte più tecnica quindi 123 per il femminile più prendiamo anche qui una bella carta di questo ok allora il femminile secondo me fa una mossa un po azzardata si fa una queste sono così il femminile fa una mossa un po azzardata perché il femminile compie un gesto che è un asso di bastoni ma si ferma subito se ne pente subito o se ne pente o vede che questo gesto non ottiene il risultato voluto non ottiene il risultato sperato e quindi ecco sembra un po un buco nell'acqua proprio come fare un buco nell'acqua sì infatti questa carta parla proprio di cose che non si riescono a realizzare dunque il femminile fa una mossa fa un gesto si ferma e dice ops che ho combinato fermi tutti ritorniamo dove eravamo e fa dei passi indietro perché con la carta del 6 di spade fa dei passi indietro io non capisco perché questo femminile faccia questa mossa forse perché davvero c'è nell'aria un po l'energia del lanciarsi del provare del fare dei tentativi però ecco non è detto che questo femminile faccia la sua mossa con il sacro maschile che abbiamo visto prima questo potrebbe essere un femminile che in generale sta facendo mosse verso un maschile che potrebbe anche non essere questo o se è quello o se è quello comunque non è la mossa giusta qui c'è un femminile che sta un po sgarrando sta facendo le sue cosine fuori dal vasino mi sa che si dice così sì una volta uno sciamano usò questa frase così filosofica e spirituale con me mi lascio scioccata però sì insomma si capisce il senso della frase è molto chiara piuttosto qui c'è un femminile che l'unica cosa che riesce a fare è fare un passo indietro cioè l'unico gesto che questo femminile riesce a fare e che gli funziona è fare un passo indietro potrebbe non essere potrebbe non essere come dire potrebbe mi si sta scaricando il cellulare potrebbe non sembrare proprio il top il massimo però in effetti sembra la cosa più corretta sembra proprio la cosa migliore prendiamo adesso due carte e vediamo qual è il consiglio per oggi vediamo se le carte hanno qualcosa da aggiungere in questa giornata vediamo un po intanto ragazzi se volete studiare i tarocchi con il metodo maya vi ricordo che ci sono i miei video corsi a vostra disposizione potete chiedere informazioni sempre tramite whatsapp anche su quelli e il consiglio viene da un cavaliere di coppe è una regina di coppe due carte di coppe due carte di corte di coppe qui si basa tutto sulla gentilezza si basa tutto sulla sensibilità una sensibilità che va presa in considerazione sia se siamo noi ad agire sia se siamo noi a ricevere perché come vedete qui abbiamo due figure che hanno proprio dei ruoli opposti uno offre ed è il cavaliere e l'altro riceve ed è la regina quindi indipendentemente da quale sia il nostro ruolo nella situazione gentilezza è la parola d'ordine che se non sbaglio era uscita anche in qualche oracolo fa inoltre sembra anche che queste carte ci parlino di comprensione la capacità di comprendere di andare oltre di saper ascoltare le parole ma non solo le parole saper ascoltare anche le sensazioni e le emozioni che le altre persone ci trasmettono perché è vero la maggior parte della comunicazione non è verbale tutti i coach ci insegnano tutti i coach o i comunicatori o gli psicologi ci insegnano che la comunicazione è più paraverbale che verbale quindi dipende molto da la mimica facciale i movimenti del corpo la postura la posizione ma andiamo oltre noi non siamo dei semplici comunicatori noi siamo degli esoteristi se state guardando questi video siete su questo canale perché siete interessati anche a degli aspetti più profondi della realtà e dell'essere umano dunque andiamo a livello energetico chi studia con mete le psichia sa che il livello energetico in realtà è ancora più importante del linguaggio paraverbale va oltre il linguaggio paraverbale tanto che è quel linguaggio che agisce quando due persone sono a distanza l'una dall'altra quando non possono nemmeno vedersi se non addirittura non possono sentirsi quindi in questo caso le carte ci stanno invitando proprio a dare importanza a quel tipo di linguaggio quello energetico quello che si sente perché l'energia fra una persona e l'altra passa i pensieri fra una persona e l'altra passano si muovono bisogna saperli sentire questo è vero ma anche le persone allora tutti a volte mi viene chiesto ma tutti sentono né perché alcune persone sentono e sanno che stanno sentendo e questi sono gli empatici sono quelli che fanno i percorsi spirituali sono quelli che nascono proprio con delle doti particolari altre persone sentono ma non se ne rendono conto perché magari hanno queste capacità innate ma non non sono consapevoli altre persone invece sentono ma è come se non sentissero perché quello che ricevono non lo elaborano non lo prendono in considerazione e quindi ha un effetto su di loro ma non non se ne accorgono neanche non cioè quell'effetto agisce davvero in sottofondo sono pochissime ma proprio pochissime le persone che non sentono nulla poverine ma perché lì ci sono dei deficit reali dei deficit proprio strutturali neurologici di cui parliamo in altra sede però ecco state attenti quindi alla comunicazione energetica come sempre spero di esservi stata utile vi auguro una splendida giornata e noi ci vediamo alla prossima ciao